Premesso che in questa regione l'attenzione alle persone non autosufficienti dada non da oggi, ma ormai da alcuni decenni, due fatti essenzialmente hanno richiesto un cambiamento. Innanzitutto l'aumento della popolazione che si trova in condizioni di non autosufficienza, principalmente anziani, ma non solo anziani. Secondo, le forti modifiche delle strutture familiari, che fanno sì che sempre meno la famiglia possa da sola farsi carico delle attività di cura e del prendersi cura delle persone che hanno necessità e che non sono in condizioni di poter svolgere una vita autonoma in modo compiuto. L'altro elemento di novità importante che si è voluto portare al sistema, da un lato è un forte riconoscimento delle differenze che esistono tra persona e persona e del diritto alla persona a poter in qualche modo determinare la propria vita anche quando si trova in condizioni di non autosufficienza e dall'altro la possibilità di sostenere chi le aiuta e le assiste, quindi i familiari o coloro che si prendono cura in base ai rapporti di vicinato o comunque di legami anche non familiari, si prendono cura di queste persone. La principale novità consiste nell'aver portato progressivamente a sistema ciò che rappresentava la migliore esperienza diffusa in alcune parti del territorio, quindi aver potenziato il sistema d'accesso, la possibilità di contatto, quindi maggior facilità, maggior vicinanza con una diffusione territoriale e poi aver ampliato le opportunità delle offerte, quindi maggiore numero di persone che possono entrare dentro la rete dei servizi. Questo in generale, nei primi due anni del fondo circa 13.500 persone hanno potuto in più usufruire dei servizi, ecco questa è la sostanza. Ma il cambiamento che si può realizzare in questo aumento di servizi è anche questo, rimettere al centro la persona nella definizione dei propri bisogni e nella condivisione del percorso di cura e di vita che siamo in grado di offrirgli come comunità e come sostegno, questo sì, anche considerando le modifiche attuali e future delle generazioni che si troveranno nella condizione di aver necessità di aiuto e di cura. Vi è una rete diffusa che è governata insieme dai comuni e dall'articolazione territoriale dell'azienda USL, cioè i distretti, i distretti sociosanitari. Vi è una rete diffusa di un sistema d'accesso che stiamo adesso anche qualificando attraverso l'esperienza degli sportelli sociali, che sono il punto informativo e di accesso di tutto il sistema della rete sociale. Attraverso un'integrazione con quelli che sono invece i punti di accesso oggi esistenti per la sanità territoriale, l'obiettivo è quello appunto di giungere a una rete molto articolata nel territorio che facendo leva anche sulle competenze e sul ruolo informativo dei professionisti del sistema, penso ai medici di medicina generale, agli operatori sanitari e sociali del territorio, penso anche al ruolo importante che i soggetti sociali, le associazioni, le organizzazioni sindacali, i patronati possono avere in questo senso nel fare sistema informativo che facilita l'accesso, questo obiettivo di un'ulteriore qualificazione e ramificazione di distribuzione territoriale nei prossimi anni potrà essere raggiunto.